Allora, io direi che possiamo già cominciare la prima struttura, quindi partiamo dalla zona del Gargano, infatti ancora una volta cominciamo dalla nostra bella cartina, la prima struttura che... Buongiorno Mariarche, buongiorno Svetlato, buongiorno signor Giorgino, benvenuto! Allora, la prima struttura che vi presento è il Pizzo Munno Vieste Palace Hotel, si tratta di un elegante hotel 5 stelle che già la posizione... Io ho cominciato, diciamo, proprio con la cartina per farvi vedere come uno dei primissimi punti di forza, ancora prima di farvi vedere questa struttura elegantissima, è proprio la sua posizione. Quindi siamo nella zona del Gargano, siamo veramente a breve distanza dal centro di Vieste, ovviamente un ottimo punto di partenza per poter andare a esplorare sia la cittadina di Vieste, che come abbiamo visto settimana scorsa è veramente meravigliosa e caratteristica, ma anche altre zone del Gargano vicino, come per esempio Peschi, Cirodi, quindi è un bel punto di partenza. Questa è la struttura, quindi abbiamo parlato di un elegante hotel 5 stelle, quindi molto bello, è un hotel, non è un villaggio, quindi è un po' più piccolo rispetto ad una struttura alberghiera, però ha proprio tutti i servizi che possiamo trovare anche nei villaggi turistici, nei resort. Ecco, è proprio fronte mare, quindi altro punto di forza di questa struttura è la sua posizione direttamente su questa spiaggia bellissima. Sorge all'interno di questa rigogliosa pineta, come si può vedere da questa foto, e abbiamo questi due immensi edifici, eccoli uno e due. Il primo che prende il nome di Pizzo Munno Vieste Palace Hotel, dove si concentrano la maggior parte dei servizi, e poi abbiamo il Pizzo Munno Dependance Hotel, che è una posizione un po' più arretrata, dove per la maggior parte sono concentrate appunto le camere. Per quanto, ecco, guardate che vista spettacolare regala, questa è la vista che, ecco, nonostante siamo in una posizione un po' più arretrata rispetto al resto dei servizi, regala a tutti i suoi ospiti uno scenario straordinario. Quindi, gli ospiti, ecco, ancora una volta la spiaggia, gli ospiti del Pizzo Munno Palace Resort si troveranno dinanzi a sé questo arenile straordinario, guardate qui, molto 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 bello. Questo arenile bellissimo, che è l'ideale soprattutto per lunghe passeggiate sulla battigia. Pensate che questa zona è una riserva naturale, quindi è un paesaggio dunale veramente unico e spettacolare, quindi un soggiorno straordinario, vi regalerà il Pizzo Munno Palace Hotel. Quali sono i servizi? Allora, abbiamo tre bar all'interno dell'hotel, abbiamo anche boutique, rivendita di tabacchi, internet point. Ecco qui, questo è uno dei bar, ecco, guardate che eleganza. Area giochi per i bambini, quindi un programma di intertenimento leggero che comunque tiene impegnati i piccoli ospiti, con zone dedicate, ecco, questo è il bar sulla spiaggia, molto bello. La sauna, perdonatemi, il centro benessere, con due saune, vasca jacuzzi, ovviamente soluzioni personalizzate per tutti i tipi di trattamento e di massaggio, una palestra, sala biliardo e poi abbiamo anche la biberoneria per i piccoli ospiti da 0 a 24 mesi. Il ristorante, considerate che essendo un hotel gli ospiti hanno la possibilità di scegliere comunque tra diversi tipi di trattamento, quindi o soluzione in solo pernottamento con prima colazione o mezza pensione o pensione completa. Quello che vedete in foto è il ristorante dell'hotel, il trambucco che offre, diciamo, sia piatti della tradizione, diciamo, della cucina tradizionale siciliana, sia piatti appunto dell'intera regione italiana. E poi abbiamo anche un bellissimo beach restaurant, che è questo qui che vedete, ora ve lo ingrandisco un pochino, ideale soprattutto per un pranzo in completo relax, per coloro che comunque amano la tintarella e vogliono trascorrere più ore del giorno sotto al sole. Passiamo alla seconda struttura. Ah, queste sono le camere, perdonatemi, queste sono le camere all'interno. Ecco qui, molto belle, ci sono diverse tipologie di camera, come potete vedere. Ecco, andiamo avanti e passiamo a un'altra altrettanta bellissima struttura, che è il Vera Club Barone di Mare. Qui cambia un po' la posizione, scendiamo lungo la zona, verso la zona del Salento. Siamo in località Torre dell'Orso, quindi siamo in provincia di Lecce. Ovviamente anche questa è una posizione strategica, sia per chi vuole, diciamo, arrivare al resort comodamente in aereo, e quindi può raggiungere quello che è l'aeroporto di Brindisi. Ma poi può, da qui, oltre a godere di quelle che sono le coccole del trattamento dell'All Inclusive, può anche dedicare giornate alla vista delle località vicine, come Otranto, come la stessa Lecce, come la straordinaria Gallipoli. Quindi anche in questo caso la posizione è un vero punto di forza. In particolare si tratta di una, diciamo, di una struttura veramente ideale per tutti. Quindi per gli adulti, per i bambini, per i ragazzi, perché comunque, come vedremo, c'è anche il Super Junior Club Plus, per i ragazzi, quindi per gli adolescenti. Di solito si ha difficoltà nelle famiglie a scegliere la struttura turistica, perché non tutti i villaggi hanno, ecco, un'animazione adatta soprattutto agli adolescenti che magari potrebbero annoiarsi. Invece in questo caso no, assolutamente no. La spiaggia. La struttura presenta questa spiaggia straordinaria. Siamo appunto sulla spiaggia di Torre dell'Orso. È una spiaggia bellissima. Guardate, completamente attrezzata con lettini e ombrelloni per tutti gli ospiti. La particolarità di questa spiaggia è che, appunto, la zona riservata agli ospiti del Vera Club è proprio quella dinanzi ai faraglioni e le due sorelle, quindi un punto di interesse della zona. Abbiamo questa bellissima, come abbiamo visto, spiaggia di sabbia fine. La spiaggia dista circa un chilometro dalla struttura, però si raggiunge comodamente. I più sportivi la possono tranquillamente raggiungere a piedi, altrimenti la struttura mette a disposizione questo bellissimo trenino, ovviamente gratuito per tutti gli ospiti, quindi anche per i bambini. Abbiamo poi, come dicevamo, il Lido Marine, che è questo, convenzionato, che offre agli ospiti del Vera Club lettini, ombrelloni, quindi veramente il mare. Io vi inviterei a guardare ancora di più il mare. Molto bello, molto molto bello. Passiamo a quelle che sono poi le camere. Ecco qui, le camere si trovano tutte in questa zona. La struttura, quindi questo resort, ospita 170 camere che sono state tutte completamente ristrutturate nel 2017. La particolarità è che queste camere sono in stile masseria, quindi molto particolari, e sono distribuite al piano terra, che è questo qui, al primo piano e al secondo piano, tutte con patio o barcone. Abbiamo camere doppie, guardate gli interni, guardate che eleganza. Vi vorrei far vedere un attimo i dettagli. Uno stile elegantissimo con questo terrazzo esterno. Abbiamo le doppie, le triple e le quadruple, poi abbiamo le superior, che ovviamente hanno degli ambienti molto più spaziosi e un ampio terrazzo. Però la struttura, cosa importante, ospita anche camere quadruple su due livelli, quindi c'è questa zona d'ingresso e poi ci sono due dorm house e quindi un bagno su entrambi i piani, quindi una soluzione comoda sia per le famiglie sia per i gruppi di amici. E poi abbiamo le family room, guardate il bagno. Elegantissimo, tutto in pietra, tutto con questo stile masseria, che è un po' lo stile tipico della Puglia, molto bello. E poi abbiamo le family room, che sono sempre dotate di questa zona un giorno, questo ingresso con questo salottino, e due camere da letto, quindi molto particolari. Proseguiamo e arriviamo a quelli che sono i servizi. Abbiamo questo ampio ristorante all'interno del Barone di Mare, che offre servizio a buffet. Ovviamente gli ospiti del Barone di Mare, come abbiamo detto prima, saranno coccolati, diciamo, da questo trattamento di all inclusive. Quindi qui potranno appunto fare colazione, pranzo e cena, una volta a settimana cena tipica salentina, e poi ogni giorno appuntamento pomeridiano con snack, dolci salati, e c'è anche la disponibilità di, lo ricordiamo, cosa importante, di alimenti per celiaci. Questa è la zona esterna del ristorante, guardate come è caratteristica, molto carina. Ovviamente non mancano i diversi bar, le piscine con zona bambini, quindi molto molto bello che vedremo tra poco. Questa è l'area benessere, molto molto particolare, molto bella, quindi un luogo ideale, diciamo, per il benessere dell'anime e del corpo. Guardate i dettagli di questo angolo benessere, di questa zona benessere, con questa pi, questa jacuzzi, proprio all'interno di questa roccia. E poi c'è questa meravigliosa zona esterna, che è riservata ai soli adulti. Quindi immaginate il relax che si vive in questa zona. Guardate che i dettagli, questi sono bellissimi i dettagli. Ecco, altro punto di forza, io già l'ho anticipato la settimana scorsa con il villaggio che abbiamo avuto modo di vedere in Sicilia. Uno dei punti di forza, e io l'ho provato sulla mia pelle, di ogni struttura Veraclub, quindi di Veratur, è per l'appunto l'animazione. Qui abbiamo un'equipe di animazione veramente straordinaria, che ovviamente vi terrà compagnia con programmi ovviamente non invadenti, quindi sempre nel rispetto della privacy, con programmi di animazione veramente adatti a tutti. Ci sono spettacoli serali bellissimi come i cabaret musical, e soprattutto l'attenzione è adatta ai più piccini. Quindi abbiamo ovviamente anche nel Veraclub c'è la biberoneria per i più piccoli, quindi c'è questo spazio completamente riservato ai bambini da zero a due anni, dove le mamme potranno preparare tutte le pappe, tutte le cose necessarie per loro. Ripeto, abbiamo il Super Mini Club, quindi per i bambini dai 3 a 11 anni, poi c'è il Super Junior Club Plus, che divide bambini tra 12 e 14 anni, 15 e 17, quindi anche per loro le attività sono tante. Ovviamente per i più piccini c'è quest'area straordinaria, che è per metà all'aperto e per metà al coperto, quindi che intratterà i piccoli ospiti con attività veramente di ogni tipo. Quindi sia i grandi che i piccoli non si annoieranno mai. Ecco tutti i campi che presenta la struttura per diverse attività sportive, quindi veramente qualcosa di eccezionale. Passiamo poi alla nostra terza struttura. Siamo a Marina di Ugento, dove troviamo il Nikolaus Club La Giurlita. È un villaggio turistico quattro stelle, come si può vedere da questa foto, è completamente immerso nel parco naturale del litorale di Ugento. Anche questa struttura sorge proprio di fronte al mare. Ecco qui, presenta questa spiaggia meravigliosa, straordinaria, quindi anche in questo caso il punto di forza è veramente la vicinanza alla spiaggia, così come quest'ottima animazione che potete vivere grazie al Nikolaus Team che vi regalerà veramente un soggiorno straordinario e fantastico. Partiamo proprio dalla spiaggia. Abbiamo questo lido privato, completamente attrezzato, che offre appunto agli ospiti del Nikolaus Club La Giurlita, lettini ed ombrelloni, ecco, ed è raggiungibile tranquillamente a piedi la spiaggia attraverso ecco questa, come dire, questa stradina sterrata secondaria che costeggia tutto il ritorale, quindi la comodità di raggiungere a piedi, cioè si ha proprio la comodità di raggiungere a piedi questa spiaggia meravigliosa. Gli ospiti di questa struttura, altra cosa fondamentale, possono scegliere tra la formula hotel, quindi ci sono ben 135 camere che sono disposte su più piani e sono tutte dotate sia di balcone che di terrazzo. Abbiamo le camere classic, un ottimo solo, voglio farvele vedere meglio, quindi camere classic, poi abbiamo le camere comfort, che come si può vedere dalla foto, spero riusciate a vederlo, hanno degli arredi di categoria superiore e ovviamente hanno anche una metratura maggiore. E poi abbiamo le camere deluxe, diciamo che fungono quasi da camere family, perché hanno tutte un doppio ambiente, quindi una camera matrimoniale più una camera doppia, con un unico bagno, quindi ideale sia per famiglie e anche in questo caso per gruppi di amici. Quello che sottolineiamo è che gli ospiti delle camere deluxe hanno qualche coccola in più, nel senso che c'è la risistemazione serale della camera, la macchina per l'espresso con la dotazione di cialde, la prima fornitura nalcolica del mini bar, posto assegnato al ristorante, posto nella zona d'ombra a parcheggio, le tv sono dotate di canali sky, quindi c'è qualche coccola in più per gli ospiti che occuperanno questa tipologia di camere. E poi abbiamo la formula residence, la formula residence dove abbiamo questi, diciamo, tri locali che possono essere o al piano terra o al piano superiore. Tutti sono dotati di doccetta esterna, le camere del piano terra, ecco qui forse si vede meglio, le camere del piano terra hanno tutta una zona giardino, quindi dotata di sdraio, di tavole e sedi attrezzate, mentre quelle del primo piano hanno questo barcone all'entrata e poi un altro ampio barcone, terrazza sul retro. Ecco, questa è la zona giardino dei tri locali, sei posti letto a piano terra, guardate che bello, ideale per il relax dopo pranzo, per una bella pennichella, e poi tutti hanno camera matrimoniale, un'ulteriore camera con letto a castello e poi abbiamo l'angolo cottura completamente attrezzato, come si può vedere. I servizi, abbiamo ben tre ristoranti, quindi abbiamo questo ristorante centrale che offre agli ospiti prima colazione, prando e cena, sempre con servizio a buffet e anche in questo caso tavolo assegnato. Poi durante la settimana anche qui abbiamo la cena tipica salentina, la cena di gala, quindi una serata elegante, c'è un angolo pappe e mamme, quindi ideale per le mamme con i bambini piccoli da 0 a 24 mesi, dei quali potranno entrare mezz'ora prima dell'inizio del servizio e aiutati dallo staff, diciamo dallo staff della sala, possono preparare tranquillamente le loro pappe e piccoli ospiti. Poi abbiamo anche altri ristoranti, come la pitta, ideale per il pranzo che offre un buffet di piatti freddi e poi abbiamo la braceria che è però a pagamento, dove si può gustare un'ottima selezione sia di grigliate di carne che di pesce. Andiamo avanti, questo è uno dei tre bar, in particolar modo questo è il bar della piscina e la cosa carina è che qui c'è l'angolo, il famosissimo angolo del dormiglione, quindi gli ospiti, per esempio soprattutto coloro che scelgono la formula TEL, che durante la vacanza vogliono dormire, vogliono rilassarsi, non vogliono avere gli orari, non perderanno la colazione, perché dalle 10 alle 11 c'è la possibilità in questo bar di poter assaggiare ecco croissant, una vasta selezione di croissant e di bevande come caffè, cappuccino, quindi potranno tranquillamente fare colazione. Poi c'è il bar rispiaggia, di cui non sono riuscita a selezionarvi una foto e poi c'è il Risto Baby, che è il ristorante dedicato completamente ai bambini, quindi dotato di tv con canali sky, dove i bambini prangeranno insieme all'equipe di animazione tranquillamente, quindi continueranno a giocare, per così dire, anche durante i pasti, quindi anche i genitori staranno più tranquilli. Campi da tennis di ogni tipo, quello che ricordiamo è che anche qui abbiamo il trattamento di soft all-inclusive, quindi abbiamo una pensione completa con bevande ai pasti e poi presso il bar della piscina, l'abbiamo già detto, l'angolo del dormiglione e poi c'è la peritime, ogni giorno dalle 19 alle 19.30 c'è un'offerta di snack salati, cocktail gelati, quindi molto carino, molto carina come cosa. Abbiamo questa straordinaria piscina lagunare con zona dedicata ai bambini, molto bella, spero riusciate a vederla. Ecco, anche qui il programma di animazione è molto vasto, molto selezionato, quindi tutti gli ospiti grandi e piccoli saranno, diciamo, avranno sempre qualcosa da fare, non si annoieranno mai. Abbiamo il Nicolino Team con la mascotte di Nicolino molto simpatica, quindi saranno organizzate attività sportive, tornei, ancora una volta musical, cabaret, party a tema, quindi anche qui vivrete una vacanza veramente indimenticabile. Anche qui diciamo l'intrattenimento per i bambini è diviso in fasce età, quindi abbiamo il Nicolino Baby Club dai 3 agli 8 anni, il Nicolino Mini Club dagli 8 ai 12 anni, dove appunto anche in questo caso i bambini saranno intrattenuti con varie attività. Ecco. E anche per i più grandi c'è appunto una zona dedicata, quindi una selezione dedicata che si chiama il Nic Club che divide i bambini dai 12 ai 15 anni e dai 15 ai 18, quindi un programma prettamente dedicato ai teenager, guardate che bello. Passiamo al quarto villaggio, questa è una vera e propria chicchetta, questo è veramente, vi porto in paradiso adesso per così dire, è un elegante villaggio turistico ancora una volta a quattro stelle e lo ricordiamo è un villaggio a gestione tedesca, parliamo del Robinson a Puglia, siamo ancora una volta a Marina di Ugento, è un villaggio a gestione tedesca che praticamente offre tutti i servizi in entrambe le lingue, quindi sia in italiano che in tedesco. Diciamo che è l'ideale per un cliente molto più esigente e soprattutto è ideale, è il luogo ideale per gli amanti dello sport e per i bambini come vedremo. Ecco, si trova a Marina di Ugento come avevamo detto, guardate, è completamente immerso nel verde, è straordinario, è bellissimo ed è, come dicevo prima, si distingue soprattutto per la qualità dei servizi che offre ai propri ospiti. Sorge direttamente sul mare dove c'è questa spiaggia riservata agli ospiti non servono parole, veramente non servono parole. La spiaggia, lo ricordiamo, si raggiunge comodamente attraverso un percorso pedonale, quindi sempre all'interno della pineta e offre, come possiamo vedere, queste zone d'ombra con lettini appunto per i propri ospiti. Abbiamo, come si vedeva, ok, qui si vede lo stesso, abbiamo questo corpo centrale è tutta una serie di unità a due piani, tutte completamente immerse nel verde come potete vedere, quindi è un paesaggio veramente naturale, qui veramente in ogni angolo, guardate com'è grande tra l'altro, questo è tutto il villaggio, è immenso, spero che si possa vedere, è immensa questa struttura, è completamente immersa nel verde, ecco qui c'è la spiaggia che si raggiunge all'interno della pineta, è veramente qualcosa per il benessere dell'anime e del corpo, cioè ogni angolo è pensato per coccolare il cliente, per viziare il cliente, quindi non manca assolutamente nulla, pensate che all'interno della struttura c'è un centro commerciale dove c'è anche la gioielleria e l'ottico, ragazzi l'ottico è qualcosa di fondamentale quando si va in vacanza, soprattutto chi come me usa le lenti a contatto, cioè avercelo all'interno della struttura è veramente un lusso, c'è anche una sorta di mercato, un'area a mercato, una zona a mercato, un mini market qualora abbiate bisogno di qualcosa d'urgente e poi vabbè ci sono tutta una serie di servizi. Abbiamo queste bellissime camere, sono 464 camere che sono state tutte completamente rinnovate di recente, abbiamo le camere standard che sono queste che vedete in foto, ecco, con questo bellissimo e ampio bagno e poi abbiamo le camere, le family room, praticamente anche qui abbiamo questa zona soggiorno, camera matrimoniale e camera doppia con possibilità anche di aggiungere il terzo letto. Pensate che gli ospiti che hanno bambini piccoli possono richiedere tutto l'occorrente per i neonati, quindi la culla e il fasciatoio possono utilizzare il passeggino quindi si può avere anche la comodità di non portare con sé il passeggino magari soprattutto gli ospiti che raggiungono la struttura in aereo quindi veramente non manca nulla. Come abbiamo detto c'è il centro commerciale, abbiamo questa bellissima piscina, questa qui è la piscina Momenti ed è riservata solo ed esclusivamente agli ospiti adulti quindi c'è questa zona solarium dove gli adulti possono tranquillamente rilassarsi. Anche qui una bellissima area benessere, ci sono due saune di cui una è all'aperto e poi abbiamo sempre piscina riservata e palestra. Per quanto riguarda la ristorazione abbiamo ben quattro ristoranti quindi abbiamo il ristorante centrale con servizio a buffet quindi per la colazione pranzo e cena la trattoria a mare aperta per il pranzo e per la cena una bellissima pizzeria serale all'aperto e poi abbiamo anche qui il ristorante a misura di bambino quindi il ristorante per i più piccini i quali potranno anche qui pranzare sempre accompagnati dal personale esperto dell'equip dell'animazione ecco qui poi abbiamo diversi bar ci sono veramente per la precisione sono sei bar ecco non lo ricordavo abbiamo il bar centrale il bar della zona tennis questa sorta di vineria ecco questi sono tutti i vari bar e poi abbiamo questo night club che soprattutto ecco per gli ospiti più giovani la sera si trasforma come potete vedere in una bellissima discoteca il trattamento per il trattamento qui abbiamo l'all inclusive bay made by Robinson quindi la formula comprende tutti i buffet vari anche qui abbiamo l'angolo del dormiglione tutte le bevande incluse sia alcoliche che analcoliche quindi bibite locali birre, granite quindi tutto tutti i tipi di caffè e poi abbiamo il robe carpet già incluso quindi la cena di gala che si fa una volta a settimana abbiamo la robie baby che è qualcosa di spettacolare la robie baby per gli ospiti quindi per i piccoli ospiti da zero quindi da 1 a 24 mesi è una zona completamente attrezzata quindi abbiamo quest'area dove ci sono due cucine e ad attendere le mamme ci sono i robis i robis sono praticamente delle persone quindi lo staff parte dello staff che dedica la maggior parte del tempo alla preparazione quindi delle pappe dei passati di verdura dei passati di carne e che vi aiuteranno durante il momento della pappa poi c'è una zona per il cambio pannolino una zona per l'area giochi poi sono proprio tutti dei programmi di intrattenimento dedicati proprio a questi piccoli ospiti con tutte le zone dedicate un attimo solo con tutte queste zone a loro dedicate quindi un vero e proprio paradiso veramente bello cioè anche i piccolini sono coccolati nei minimi dettagli e poi abbiamo il Robi Club che è questo qui Robi Club Water Park quindi è un unico grande parco però da un lato abbiamo l'ingresso al Water Park che è un vero e proprio parco giochi per i bambini abbiamo tre piscine d'acqua dolce riscaldate abbiamo la piscina due piscine hanno gli scivoli ovviamente in base all'età dei bambini una piscina è adatta per i bambini per esempio dai 2 ai 5 anni l'altra dai 6 anni in su e poi abbiamo una zona completamente libera da scivoli per i bambini che magari vogliono stare un po' più tranquilli e non vogliono essere infastiditi dai getti d'acqua degli altri bimbi e poi abbiamo la bellissima area Robi Club che è questa che vedete qui per i bambini dai 3 ai 7 anni che è aperta dalle 9 alle 21 quindi è un parco giochi dove troviamo l'arrampicata gli scivoli le altalene e poi ovviamente un programma di attività molto simpatico e suddiviso diciamo a seconda sia delle fasce età sia di quelle che sono gli interessi dei piccoli ospiti come possiamo vedere ecco programmi per quindi creativi come si può vedere dalle foto ecco tutti i tipi di giochi abbiamo il surf per i più piccoli tutto diviso cioè quindi i vostri bambini saranno in compagnia dei loro coetani quindi non stanno tutti insieme come di solito succede nei villaggi turistici qui c'è proprio sono proprio selezionati per fasce età anche le diverse attività le femminucce possono fare aerobica cioè ci sono queste lezioni di lettura in questi spazi naturali straordinari quindi veramente pure le attività che si fanno sono attività che solitamente negli altri villaggi non sono attrezzate per essere fatte dai più piccoli le immersioni quindi veramente qualcosa di il tennis di straordinario un livello molto molto alto anche per gli adulti ce n'è di tutto e di più diciamo sono queste ampie aree fitness quindi con programmi di intrattenimento per ogni tipo sempre per la cura del corpo perché abbiamo detto essere una struttura ideale soprattutto per come dire per gli amanti dello sport ecco guardate quanti ampi spazi tutti dedicati al fitness ecco molto 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 bello la palestra sempre accompagnati da personale qualificato ecco qua e passiamo all'ultima chicchetta all'ultimo villaggio questo qui abbiamo già avuto modo di vederlo un po' più da vicino settimana scorsa quando abbiamo parlato della Puglia lo ripropongo perché andremo un po' più nel dettaglio questo è il vivosa a Puglia resort siamo ancora una volta nel parco naturale litorale di Ugento e in particolar modo si tratta di un eco resort come abbiamo detto la settimana scorsa costruito completamente in tufo che lo ricordiamo è la tipica pietra locale è un hotel perdonatemi è un resort anche questo molto elegante molto esclusivo soprattutto l'ideale per un cliente veramente esigente che vuole essere viziato e coccolato durante la sua vacanza si compone guardate nasce proprio all'interno di questa pinita anche qui abbiamo degli ampi spazi verdi e abbiamo nasce come dicevamo su uno dei tratti più suggestivi della costa ionica quindi ha questa spiaggia bellissima veramente meravigliosa guardate la spiaggia ovviamente anche qui con servizio spiaggia quindi lettini ombrelloni a disposizione degli ospiti e come dicevamo si compone di un corpo centrale con tutti i servizi e di 10 corti dove troviamo le camere le bellissime camere sono 333 camere che hanno tutto balcone o terrazza e guardate lo stile guardate l'eleganza i dettagli soprattutto uno stile completamente matrimoniale anche qui abbiamo la divisione in camere classic camere femmini camere superior poi abbiamo addirittura le superior plus le camere femmini superior plus che hanno una vetratura di 57 metri quadri guardate che belli gli interni proprio un senso di relax solo a guardarli la spiaggia la spiaggia abbiamo detto si trova proprio avanti alla struttura è attrezzata con snack bar lettini ed è comodamente quindi altro punto di forza raggiungibile a piedi attraverso un sentiero all'interno della pineta guardate che bello cosa troviamo nella struttura la struttura ecco questo è il percorso che si fa per raggiungere la spiaggia cosa troviamo nella struttura la struttura si presenta come un oasi immersa nel verde abbiamo già detto ci sono quattro piscine di acqua dolce quindi divise su diversi livelli ovviamente abbiamo anche piscine dedicate ai bambini e la cosa straordinaria qui sono gli 800 metri quadri dedicati alle zone fitness alla cura del corpo al benessere dell'anima quindi grandi e piccoli potranno praticare diversi tipi di attività guardate la palestra all'aperto bellissimo cioè veramente sensazionale ginnastica sotto la pineta arrampicata sugli alberi o meglio percorsi di avventura sugli alberi questa è una cosa che in sul resort si trova guardate che bello cioè sarete impegnati veramente in tantissime attività passeggiate lungo la pineta yoga sotto cioè all'interno di questi spazi verdi meravigliosi quindi veramente c'è di tutti i colori questa benissimo questa bellissima area benessere quindi con percorsi sia all'aperto che all'interno come potete vedere quindi abbiamo il percorso Kinep all'esterno con quest'area solarium per passare dei momenti di tranquillità e di relax piscine con cervicali quindi con getti d'acqua e poi anche qui una bellissima beberoneria completamente attrezzata per i più piccolini per quanto riguarda i bambini abbiamo già detto la settimana scorsa che questo è un villaggio proprio a misura di bambino è un villaggio pensato per i bambini quindi i piccoli ospiti qui non si stancheranno veramente mai le attività sono diverse sempre accompagnate dallo staff del vivosa quindi dall'equip di animazione qualificata abbiamo anche qui il ristorante a loro dedicato con menù specifici quindi nel buffet si trovano tutte le cose che ai bambini piacciono molto bello diverse attività quindi hanno anche la possibilità di fare queste escursioni a cavallo quindi di vivere questa esperienza bellissima anche qui abbiamo il surf quindi molto bello aria e giochi a loro dedicate sempre sotto questa pineta straordinaria e poi abbiamo la parte diciamo che è definita eco kids eco kids perché sono sempre programmi di intrattenimento però hanno qualcosa in più vogliono trasmettere ai bambini una sorta di educazione verso quella che è il sistema naturalistico e ambientale quindi loro giocheranno a contatto con la natura quindi faranno dei giochi particolari ecco lezioni di yoga anche per i più piccoli arrampicate quindi percorsi di avventura tra gli alberi anche per loro ecco questo è quello che vi dicevo io giocare con la natura con i prodotti della natura qualcosa di meraviglioso e poi abbiamo tutti quelli che sono le zone diciamo della ristorazione anche qui abbiamo il trattamento di all inclusive con un open bar dalle 10 alle 24 in questo che vedete in foto che è il bar della spiaggia quindi sia in questo bar che nell'altro c'è il consumo illimitato di acqua soft drink birra alla spina vino della casa snack gelati quindi veramente qui vi rilasserete tantissimo mangerete tantissimo e berrete tantissimo quindi abbiamo questo snack bar scirocco in spiaggia veramente molto elegante poi abbiamo nella zona piscina il bar dolce vita che ha questa sorta di lettini particolari molto graziosi poi abbiamo il ristorante centrale che si chiama Via Appia quindi propone ricchi e invitanti buffet con diverse postazioni di show cooking quindi ciò che mangerete lo vedrete proprio preparato avanti ai vostri occhi molto bello molto elegante anche l'esposizione di quelle che sono le pietanze vedete fanno anche la mozzarella avanti proprio ai vostri occhi una cucina eccezionale ecco questo è ancora il ristorante Via Appia anche è molto elegante anche nel design poi abbiamo a pagamento però l'Osteria Apoteca che è praticamente un ristorante alla carte dove potrete assaporare tutti i sapori tradizionali pugliesi ovviamente rivisitati in chiave gourmet anche questo è qualcosa di elegante con questa terrazza panoramica poi abbiamo il Damiano Lounge Bar soprattutto per la sera questa è una zona veramente esclusiva è una chicchetta c'ha questa terrazza panoramica quindi anche gli interni sono molto curati per sosteggiare drink spritz per fare gli aperitivi quindi è come se state sempre nel villaggio però come se cambiasse ogni momento ogni momento della giornata location sembra di stare in un posto diverso a seconda della zona ecco questo è il panorama che potete ammirare dal Damiano's Lounge Bar e poi ancora andiamo con questa zona salottini panoramica bellissima ed ecco qua questo è tutto allora spero che questa panoramica in queste strutture veramente da sogno della costa pugliese vi sia piaciuta se avete bisogno di qualche chiarimento non esitate a scriverci anche se volete scoprire un po' più da vicino qualche struttura in particolare della quale avete sentito parlare della quale provate qualche interesse scrivetecelo che saremo lieti di accontentarvi diciamo nei prossimi interventi nelle prossime dirette io nel frattempo vi rinnovo i miei saluti vi auguro ancora una volta un buon inizio settimana una buona giornata e nulla alla prossima